Ciao ragazzi, noi siamo rientrati, ecco qua nel tuo tempo, come al solito, l'acquedrezza da parte dietro è molto molto valutosa, anche oggi ci sono le solite magliette, scritta via Roma, vediamo se riusciamo a avvicinarci all'ingresso, come ve l'ho mostrato, come prosegue l'apertura, vedete che le magliette ce ne sono in abbondanza, ci dovrebbero esserci le solite migliori, e insomma in modo tale vado a rendere soddisfatti l'ultimo giro. Vi aggiorniamo in seguito, un saluto.